Il video è un po' più basso, un po' più alta. Difficile una convenzione, sempre un po' di stress. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie. Di confidenza, di confidenza è un invito, un invito alla fiducia. La fiducia è la cosa più importante che esiste tra le relazioni umane. La fiducia è tra parenti, amici, colleghi, clienti. La fiducia si costruisce con il tempo, con l'esperienza. E qualche volta si può distruggere in un modo molto facile. La fiducia, in questi momenti che viviamo molto difficili, sto parlando della crisi che stiamo attraversando, è veramente ancora più importante per noi. È tesoro. Siamo una squadra e ogni giocatore è fondamentale. E allora questa è la sfida. Da lì è iniziato il momento della riscoperta. C'era bisogno di consolidamento, di consolidare. Che il cliente abbia questa percezione di professionalità. La parola responsabilità è chiara nei numeri. La flessibilità di seguire i clienti nel cambio di tecnologia. Effettivamente lo conosciamo. Il mondo di Ben Peppa Ribà in Italia. Per tante di voi, tutti e alcuni da tanti anni, vi ho visto crescere, crescere. E ho visto questa professionalità anni dopo anni. Ognuno di voi, senza nessuna escezione. Ve la sicuro. Più o meno, ovviamente. A ritmi diversi. Augmentare la vostra professionalità. Senza perdere il vostro entusiasmo. Quindi, io vorrei adesso chiamare i miei amici del comitato di venire con me, vicino. Perché siamo una squadra, siamo tutti una squadra. Per sicuro, io ho fiducia. Io ho fiducia in 2014, 2015, 2016. Ho fiducia nel futuro. Perché? Ho fiducia in voi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.